Perchè ridi? Perchè ridi? No, stavo pensando a un sogno che ho fatto stanotte incredibili Ti racconto? Si Praticamente ero una sorta di agente segreto, no? Stavo su un motoscafo e correvo su un fiume e indietro ero seguito da altri motoscafi Io portavo uno di quei motoscafi sai, russuosi, quelli lunghi tutti di legno un riva un riva, proprio un riva e con me nel motoscafo ci stavano Mekangail dietro con una bambina che piangeva e l'abbracciava Dicevano ti preoccupare, ti preoccupare questa bambina e io li stavo portando in salvo andavo al Cosmo Allora mentre andavo a un certo punto dall'alto arriva un elicottero, un elicottero nero e si abbassa su di noi io mentre guido questo elicottero e da questo elicottero scende su una corda appeso uno di quei cavalieri come si chiamano? un ninja un ninja con una spada in mano una sciabola allora io che faccio? con una mano tengo la pilota del motoscafo con l'altra prendo la corda del ninja e lo strozzo con la corda come no? metti prima il pilota automatico e poi fai tutto questo e perchè? perchè sennò vai a sbattere intelligentemente quale sei metti il pilota automatico ma nel sogno invece faccio vedere il sogno prendo la corda e lo strozzo no non fai così poi non lo strozzo con la corda e gli hai un pugno in faccia ma che ne sai? il sogno ho fatto io no l'ho fatto io l'hai fatto io? si vent'anni fa te l'ho raccontato e tu lo hai copiato vent'anni fa? eh tu lo hai fatto? ma quando mai? io l'ho sognato a stanotte e te l'ho raccontato vent'anni fa quando eravamo all'università ma quando mai? se non mi ricordo cosa ho fatto lo so che hai fatto l'ho sognati stanotte che stanotte? questo l'hai sognato? l'ho sognato io vent'anni fa e te l'ho raccontato tanto perchè Megan Gill sta Megan Gill oggi e non ci sta magari Belen per esempio ma che accetto? quello è l'inconscio ma che inconscio? questo è un sogno che io ho fatto che ho raccontato vent'anni fa e tu hai fatto un remake eh una stifizia perché poi sei proprio buona e poi lo hai a raccontare mi chiedo la raccontateci? ma certo è il mio sogno è il mio sogno tu racconti il sogno mio agli altri e magari la gente ti dice wow questo è proprio un buono guarda che sogno che si fa e invece è il mio il sogno capito? ma che cosa è suo perché ci guadagno col sogno tu? che ci ho messo il copyright 5 metto il copyright eh ma ti dovrei pagare secondo te eh me la vinto ma dammi venti euro ma qua venti euro dammi venti euro non ti do vente dammi venti euro non ti do niente non te li do non te li do non te li do dammi venti euro non te li do dai Ferdinando oh ti do 20 euro che? perché? devi fare benzina ah scusa me l'ha addormentato eh ho notato me l'ha addormentato ho fatto un sogno incredibile ho sognato che ti raccontavo un sogno che avevo fatto io la notte però tu dici che questo sogno l'avevi fatto tu quindi dormivo io no io stavo dormendo nel sogno raccontavo un sogno a te e tu dicevi che questo sogno l'avevi fatto tu tanti anni fa è una cosa che è? ma che è la sveglia? la sveglia madonna che è? ma che ora è? le otto e un quarto oddio no le sette e mezza Ferdinando scusami madonna mia Ferdinando scusami e io sto dormendo ancora abbi pazienza dammi dieci minuti e un quarto d'ora mi faccio una sciacquata velocemente e scendo ok? Ferdinando scusami e niente sto dormendo sto sognando addirittura sto sognando ciao 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 scusami tanto ma chi è? chi è? Ferdinando quello vero ehi chi sono? un incubo Ferdinando tu sei un incubo vengo a prenderti alle sette e mezza non farmi aspettare alla prossima tastanta ecco quest' surprised all lang